Non solo numeri. Parlare di bilancio non è solo sinonimo di conti da far quadrare, ma anche di aspetti più umanistici da tenere in considerazione per raccontare la realtà di aziende e imprese. Anche questo aspetto è stato dunque trattato nella giornata di studi organizzata dal DEA, Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio di Pescara, sul tema della funzione informativa del bilancio di esercizio delle imprese e dei limiti e modi di superamento dello stesso, con la partecipazione di AIDEA, Accademia Italiana di Economia Aziendale, SIDREA, Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, SISR, Società Italiana di Storia della Ragioneria, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche di Pescara, e la Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico. A parlarne al Tg8 è stato Giuseppe Paolone, coordinatore scientifico dell'evento. Il bilancio di esercizio, come tutti sanno, è un documento contabile che deve rispondere a certe regole di tipo codicistico, codice civile, ma anche di tipo fiscale. È un documento importante, viene redatto periodicamente, però presenta dei grossi limiti, cioè il bilancio presenta dei limiti oggettivi, perché deve tutelare una serie di interessi legittimi che vanno verso il bilancio spesso in modo conflittuale, non sempre concordante, perché sono interessi di soggetti diversi, l'interesse dell'amministrazione finanziaria è diversa dall'interesse del socio, dell'amministratore, del dirigente, e allora il bilancio non riesce a soddisfare tutte queste esigenze, ci vorrebbero tanti bilanci per ogni soggetto che presenta un interesse collimante, e questo non accade. Per cui ci sono dei limiti oggettivi. Dire che il bilancio soddisfi le aspettative di un socio non vuol dire nulla, perché per poter soddisfare le esigenze di un socio bisogna che il bilancio dica qual è il valore reale di un'azienda, e il valore reale di un'azienda il bilancio non lo dice, perché ci sono delle risorse cosiddette intangibili che non sono presenti nel bilancio, e quindi sono anche invisibili, ma sono quelle che danno valore, entità al bilancio. Per esempio, io domando spesso, ma il valore dell'imprenditore, dove è scritto nel bilancio? Da nessuna parte. Il valore del manager, il valore del dipendente, il valore dell'azienda avviata, dall'avviamento, dove sta scritto? Non c'è scritto, ma se mancano questi valori, il bilancio è carente. Ecco allora che bisogna lavorare, studiare, approfondire come superare questi limiti. E i limiti si superano cercando di soddisfare tutte le legittime aspettative dei soci e degli altri fruitori del bilancio. C'è anche una sorta di visione un po' più umanistica. La visione umanistica e quindi il riferimento agli aspetti filosofici, sociali, psicologici, pedagogici è fondamentale. Cioè oggi il bilancio deve tener conto anche dell'apporto, del contributo, delle discipline, meglio, delle scienze umanistiche alla formazione del documento.